Dal menu in alto a destra, clicca su Segreteria, Nulla osta laurea magistrale, clicca sul tasto blu Domanda di valutazione per nulla osta, leggi con attenzione le informazioni qui riportate e clicca su Avanti. Seleziona un concorso magistrale per cui desideri presentare una domanda di nulla osta, clicca su Avanti e seleziona il relativo concorso. A questo punto inserisci gli allegati richiesti. Se hai dubbi, clicca su questo link. Clicca su Sì. In questa schermata devi caricare obbligatoriamente la domanda di valutazione ed eventualmente gli altri allegati richiesti dal corso. In corrispondenza di ogni allegato puoi anche inserire delle annotazioni che saranno visibili al docente. Dopo aver caricato tutti gli allegati, clicca su No. Conferma gli allegati verificandone la correttezza poiché saranno valutati dalla commissione. Clicca su Avanti e infine completa ammissione al concorso. Questa è la pagina di riepilogo, dove in corrispondenza dell'esito visualizzerai entro 30 giorni il giudizio della commissione. Gli esiti possibili sono Idoneo. Potrai procedere con l'immatricolazione. Non idoneo. Ti saranno comunicati dalla commissione i debiti da colmare. Solo dopo averli colmati potrai presentare una nuova richiesta di nulla osta. Valutazione sospesa. Attesa integrazione. Ti saranno indicati dalla commissione i documenti da integrare o sostituire. In tal caso potrai effettuare una modifica degli allegati attraverso il tasto Modifica titoli di valutazione a fondo pagina. Alla pagina di riepilogo puoi tornare in qualsiasi momento dal menu in alto a destra rifacendo il percorso Segreteria, Nulla osta laurea magistrale, Concorso di riferimento. Dallo stesso menu puoi presentare richiesta per un altro corso di laurea magistrale cliccando su Procedi con l'iscrizione. Oppure, nel caso ti fosse stato riconosciuto un debito, dopo averlo colmato potrai presentare domanda per il medesimo corso.